Assessore, siamo ormai prossimi a due scadenze importanti, una è il 15 giugno, l'altra è il 19, la prima riguarda il trasporto urbano gratuito per gli anziani, l'altro invece le risorse assegnate al Fondo Nazionale di Sostegno per accessi alle abitazioni e locazioni. Sì, appunto grazie per l'opportunità che mi date di ricordare queste scadenze, innanzitutto appunto partivo dal trasporto urbano, questo appunto scade il 15 di giugno, quindi coloro che sono interessati, che già usufruiscono il servizio, che vogliono appunto intendendo usufruire di questo servizio, devono ripresentare la domanda per il nuovo semestre che va da luglio a dicembre con il nuovo modello ESEE con i redditi dell'anno 2013 e possono presentare la domanda a coloro che hanno un ESEE inferiore a 9.600 euro se è unico componente oppure inferiore a 19.200 euro se appunto nel nucleo familiare ci sono più componenti. Mentre per quanto riguarda il contributo a sostegno degli inquilini che vivono in casa e in locazione, questo scade il 19 di giugno e quindi tutti coloro che sono interessati possono presentare domanda, i moduli disponibili sono appunto disponibili sul sito del comune di Canicattio presso gli uffici della solidarietà sociale, quindi visto appunto che le scadenze sono imminenti, ricordo a tutti coloro che sono interessati e che hanno i requisiti di presentare appunto domanda più presto. Per quanto riguarda quest'ultimo beneficio di cui andrebbero ad essere agevolati chi abita in abitazioni in affitto, il requisito principale è quello che ci sia il contratto di locazione. Sì, innanzitutto che ci sia il contratto di locazione e poi ovviamente che ci sono alcuni requisiti fondamentali come quello di non avere soffruito in dichiarazione del reddito della detrazione e poi anche i limiti reddituali e in funzione di questi viene appunto assegnato un contributo che varia anche in funzione del reddito che si ha.